Sarà ancora Paolo Doglioni a guidare nei prossimi 5 anni Confcommercio Belluno Dolomiti, l'associazione rappresentante professionisti e imprenditori del terziario. La conferma è avvenuta per acclamazione da parte dei delegati provinciali riuniti in assemblea presso la Sala Rossi del centro di formazione permanente di Belluno. Doglioni si appresta dunque al suo terzo mandato. In questi 5 anni che verranno il mio compito è di far entrare i giovani, e ci sono, per poter dare dei sensi nuovi all'associazione. L'associazione dà molto, ma soprattutto deve dare gioventù, gioventù e forza. Una nuova spinta all'innovazione, questo l'intento perseguito con grande attenzione naturalmente anche a quelle che sono considerate delle vere e proprie priorità in questo momento per l'associazione. Uno è la legge sulla montagna, di cui io faccio parte a Roma, sono il rappresentante per Confcommercio nazionale proprio sulla legge della montagna, e l'altra è la conoscenza di tutto quello che facciamo. Ahimè, noi non comunichiamo abbastanza. Confcommercio Belluno Dolomiti dà moltissimo, ma non solamente alle botteghe, anche alle persone che hanno degli appartamenti. Questa è una casa veramente del territorio, e questo dovrà essere per il futuro. E naturalmente lo sguardo non può che essere proiettato anche alle Olimpiadi 2026. È una grande opportunità che può essere anche un boomerang. Dobbiamo presentarci bene. Grazie. Grazie.